Gli insegnamenti impartiti nella Facoltà di Scienze della Formazione Università di Bologna che ruotano intorno al concetto di tecnologia dell'educazione non devono essere confusi con gli insegnamenti laboratoriali che entrano nel campo dell'insegnamento di particolari applicativi informatici. Questi insegnamenti affrontano più in generale il problema politico, pedagogico e didattico delle nuove tecnologie inserite nel contesto della società della conoscenza. In particolare affrontano il problema dei modelli attraverso i quali scegliere criticamente i nuovi applicativi siano essi online o offline. Quello che preoccupa maggiormente alla base di questi insegnamenti è un uso acritico delle tecnologie che appunto assegna il logos, cioè il modello di riferimento, alle tecniche. Quello che si cerca di proporre allo studente è un ragionamento che riconsegni il logos, cioè appunto la capacità di scelta critica, motivata e finalizzata, al protagonista dell'azione educativa, al docente o all'educatore. In particolare poi il nostro sforzo di ricerca e di formazione riguarda i nuovi ambienti collaborativi e sociali resi possibili dalle nuove tecnologie che danno indubbiamente possibilità enormi di costruzione della conoscenza e di proporre allo studente di qualsiasi ordine, grado scolastico o formativo un atteggiamento di tipo protagonistico e essere quindi co-costruttori dei propri percorsi di conoscenza.